15 giorni di rialgio più o meno costante della curva hanno fatto scattare l'allarme in Sicilia. Il 30 giugno, due settimane dopo l'entrata in zona bianca, i contagi quotidiani da Covid erano sotto quota 150 e incidenza settimanale di infezione sulla popolazione pari a 15 casi ogni 100.000 abitanti, il valore più basso registrato dal 21 settembre 2020. Lo spettro del cambio di colore si fa sempre più concreto, ma le imprese non ci stanno e dalla regione arriva il pressing per cambiare i criteri per il cambio di colore delle regioni. Non possono più essere legate alla percentuale dei contagi, ma al tasso di ospedalizzazione, ha sottolineato il presidente Nello Musumeci. In Sicilia attualmente siamo la seconda regione italiana per contagi Covid, ma abbiamo in totale solo 21 ricoverati in terapia intensiva e 130 nei reparti ordinari su 5 milioni di abitanti. Gran parte dei ricoverati, peraltro, risulta non vaccinata. L'esperienza deve indurci a rivedere il sistema, a fare scelte di buon senso. Sarebbe assurdo andare verso nuove restrizioni e chiusure con gli attuali criteri, determinando un disastro che non sarebbe sanitario ma economico. Non dà nemmeno speranza alla nostra provincia, che da ieri, oltre a Giarratana, non ha più comuni Covid-free. I positivi in Terriblea hanno superato la soglia dei 300. La zona gialla, dunque, sembra prendere sempre più forma e questo fa paura. Da oggi, intanto, inizieranno a Santa Croce gli screening mirati ad alcune categorie commerciali. Si inizia dai grossi centri commerciali e poi via via gli altri. Il sindaco Giovanni Barone ha dichiarato «Dobbiamo rialzare la guardia. Si tratta di una grossa operazione di prevenzione che permetterà di isolare le persone con tampone positivo al Covid. Fino a quel momento ignare di essere veicolo di contagio, rimanendo sul posto di lavoro. Infine, ricordo sempre di evitare il più possibile ogni forma di assembramento, di indossare correttamente la mascherina, soprattutto nei luoghi al chiuso, e di disinfettare le mani. A preoccupare adesso, in Terriblea, anche la variante Delta. Diversi giovani sono tuttora sotto stretta osservazione da parte dell'ASP di Ragusa perché contagiati da tale variante. Intanto dalla regione, tampone obbligatorio anche perché arriva in Sicilia da Malta o per chi vi ha soggiornato nelle due settimane precedenti. A deciderlo è stato il presidente della regione, nell'Homo Sumeci, che ha firmato un'ordinanza che disciplina le norme comportamentali perché arriva dall'isola. Le stesse misure verranno adottate per chi proviene dalla Spagna e Portogallo e come disposta a livello nazionale dai paesi extraeuropei, come l'India, il Brasile e il Bangladesh. Infine, i passeggeri che atterrano o decollano dall'aeroporto civile più la torre di Comiso e desiderano volontariamente sottoporsi al tampone rapido possono farlo gratuitamente. Il risultato sarà certificato in qualche minuto e il servizio sarà attivo almeno fino al primo di settembre.